Adesso le associazioni degli islamici americani esigono le scuse ufficiali di Donald Trump. Due manifestanti musulmani sono stati espulsi dalla sala in cui l'aspirante candidato repubblicano alla presidenza stava tenendo un raduno elettorale a Rock Hill, nella Carolina del Sud. I due erano entrati nella sala per dimostrare pacificamente e silenziosamente contro la proposta di Trump di impedire gli ingressi di persone di fede islamica negli Stati Uniti. Ma sono stati cacciati mentre gli astanti urlavano loro addosso. Rose Hamid, un assistente di volo di 56 anni, ha in seguito spiegato quale fosse il suo obiettivo recandosi al comizio con indosso una maglietta con su scritto Salam, vengo in pace. Non volevo fare un'azione di disturbo né creare problemi, volevo semplicemente stare lì in piedi per far capire che questo non è il modo appropriato di parlare per uno che vuole candidarsi alla presidenza. Il re del mattone statunitense, sempre favorito nella corsa all'investitura repubblicana, mostra i primi segni di nervosismo all'approssimarsi delle primarie al via il primo febbraio in Iowa.